Networking, come conoscere altre persone per crearti il tuo gruppo di pari, crearti un gruppo di amici, di conoscenti che possano arricchirti come persone, possono aiutarti poi anche a migliorare o a trovare risposte, dubbi e a imparare cose nuove. Questa è una delle domande che tutti noi ci poniamo, soprattutto tutti noi che lavoriamo spesso da soli perché lavoriamo nel digitale, è una domanda che ti poni, dopo un po' magari il tuo gruppo dei pari ti annoia o comunque magari l'hai allontanato perché ti sei isolato eccetera eccetera e a un certo punto dici ok ma io sento il bisogno di parlare con persone che mi capiscano, sento il bisogno di trovare persone che lavorano online, che hanno le mie stesse passioni, che hanno i miei stessi problemi eccetera eccetera. Ecco questo video è pensato proprio per chi sta vivendo questo momento, momento che ovviamente ho passato anch'io nei mesi scorsi, negli anni scorsi e argomento di cui mi sono spesso interrogato. Ho guardato tantissimi video, soprattutto in americano, in inglese per capire come fare networking, networking intelligente eccetera eccetera e voglio parlarti di tre strategie che ho messo in atto e che oggettivamente mi hanno aiutato moltissimo. Attenzione spoiler, sono strategie che funzionano anche se sei molto introverso, quindi se magari sei un tipo che sta un po' sulle sue, che sta benissimo così, queste strategie le puoi utilizzare. Nessuna fuffa, nessuna formula magica come sempre, ovviamente cose che hanno funzionato per me in primis e che con piacere ho voglia di condividerti. Ovviamente se questi argomenti ti piacciono il mio invito è sempre quello di iscriverti, di supportare il canale, di iscriverti a Spotify, al podcast, lasciare un like, condividere il video, fai quello che ti pare, ma sostieni questo canale assolutamente che è un'azione che a te non costa assolutamente nulla ma per me è importantissimo. Anzi il canale sta letteralmente esplodendo, questo 2024, perché 2024 mentre registro questo video gli obiettivi sono altissimi, c'è tanto lavoro da fare, quindi vai 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 vai. Allora, networking è importantissimo perché a un certo punto sentiremo questa necessità ovviamente di trovare persone che quantomeno possano capire che cosa facciamo, chi siamo e magari ci possano anche aiutare a migliorare. La primissima cosa da fare è quella di partecipare a corsi, ora attenzione, seleziona molto bene i corsi, perché? Perché ci sono corsi di tutti i tipi, di tantissime materie ma anche, attenzione, di diversi livelli. Per esempio in passato a me è capitato di andare a un corso che per l'amor di dio è interessantissimo, bellissimo, ma pur sempre era a un livello basico rispetto a quelle che erano le mie competenze. Quindi quelle che sono state le mie conoscenze di erano sicuramente conoscenze interessanti, però non mi piace essere nella posizione di essere diciamo il più in avanti in un gruppo, mi spiego meglio. Mi piace molto essere in una situazione di discomfort, ovvero andare a un evento dove magari io alle Lorenzi sì sono bravo, ho già raggiunto i miei risultati eccetera eccetera, ma sono tra i più piccolini in modo tale che tutte le persone che mi circondano o una buona fetta di queste possano effettivamente insegnarmi qualcosa, condividermi esperienze che magari io non ho passato e migliorarmi, ok? Quindi il primo consiglio che voglio darti è se vuoi fare networking vai ad eventi, seleziona bene gli argomenti, io ad esempio faccio una lista trimestrale di quelli che sono gli argomenti che voglio approfondire e poi inizio a cercare eventi riguardo a quelli che sono le tematiche che voglio approfondire, quindi magari voglio approfondire, non so, il business, il marketing, l'advertising, il mindset eccetera eccetera, metto giù una graduatoria solitamente di due o tre argomenti al massimo e parto dal primo e mi cerco gli eventi che mi servono, ok? Poi ovviamente dipende dal budget, dove sono eccetera eccetera, magari soddisfo tutte e tre le aree oppure ne soddisfo due e la terza finisce nel prossimo trimestre, ok? Non mi metto troppa fretta su queste cose, priorizzandole ovviamente il primo argomento che devo soddisfare è il primo, ok? Se gli altri non riesco a soddisfarli per x motivi, perché magari gli eventi che trovo sono troppo lontani, questo è difficile che mi capiti, ma magari ho già altri eventi o altri impegni che non posso spostare, questo è più facile. Ovviamente quelli li mando magari al secondo trimestre, quindi parto da lì e inizio a cercare quelli che sono gli eventi che potrebbero interessarmi e attenzione a focalizzarsi sul livello che stai cercando, ok? Questo per me è una cosa importantissima, magari se sei alle prime armi vai, nel senso che anche se sei alle prime armi troverai altre persone alle prime armi e anche più brave di te, quindi quella situazione di discomfort la vivrai e ti troverai molto, magari all'inizio un po' a disagio, ma poi credimi che ti aiuta a mettere il carburante e a dare quella bella spinta. Quindi primissima cosa, partecipare agli eventi, selezionarli bene, poi quando sei lì la cosa più facile è iniziare a parare con il tuo compagno di banco, se sono mastermind ad esempio ci sono situazioni in cui fare networking, le pause o esercizi propri per fare chiacchiera, conoscerci eccetera eccetera e ovviamente la cosa importante è non chiudersi a riccio, cioè non andare a questi eventi per stare lì isolato o magari se vai con un amico, collega, che ne so io, non focalizzarti solo a parlare con lui ma cerca di conoscere anche le persone che ti stanno intorno proprio per dare vita a questo networking. Ai corsi si conoscono tante persone interessanti, è importante magari scambiarsi l'Instagram, il Whatsapp e poi sentirsi nei giorni dopo o comunque nelle settimane successive. È un buon gancio, ripeto, dipende sempre il livello che stai cercando, però soprattutto se sei all'inizio è interessante perché all'inizio andare a corsi e vedere che ci sono altre persone, magari se vai a corsi quelli grandi ti rendi conto di quanta gente ha i tuoi stessi bisogni. Se sei all'inizio dici wow non sono solo, wow bellissimo, c'è tantissima gente, inizi a creare tante relazioni e poi all'inizio ti aiuti di più. Quando arrivi a un certo livello magari preferisci mastermind proprio perché magari è più circoscritto il numero ma l'esperienza che ti porti a casa è pazzesca, ok? Quindi primo aspetto vai a corsi ma selezionali bene e poi ti ho dato anche il tips di dividere gli argomenti che vuoi approfondire che credimi quello ti aiuta un sacco. Seconda cosa, partecipare a gruppi o seguire profili su Instagram, io ad esempio uso più questa, seguire profili su Instagram che mi interessano, quindi anche lì sempre sulla base della tematica cerco di trovare il migliore esperto su quella tematica. Ti faccio un esempio banale, ok? Devo trovare un modo per migliorare il copywriting, mi viene questo esempio. Cosa faccio? Inizio a fare le mie ricerche online tra YouTube, Instagram, Google eccetera eccetera e cerco di individuare quelli che sono ovviamente i top player del mercato. Da lì faccio una ricerca per assicurarmi che non fossero, che non siano dei fuffaguru quindi che poi mi vendano schifezze e da lì magari li aggiungo su Instagram, cerco di entrare in contatto con loro, cerco di capire se hanno una community, mi iscrivo, inizio a entrare nelle loro realtà perché ovviamente se sono i top player hanno già raggiunto il goal che magari io voglio raggiungere e iscrivendomi alle loro community eccetera eccetera incontro anche altre persone che stanno vivendo il mio stesso percorso e questa è altrettanto interessante per due motivi. Uno perché magari riesci ad avere accesso diretto al mentor e poi dipende dai vari pacchetti che magari offrono, ma due anche avere accesso alla sua community, credimi, è una risorsa molto importante perché fondamentalmente fai quello che faresti a un evento, semplicemente lo fai virtualmente e quindi senza doverti spostare eccetera eccetera. Ovviamente devi essere anche abili a chattare con le persone, scrive, di rompere il ghiaccio, non devi neanche troppo vergognarti, il mio consiglio è buttati, buttati, nessuno ti giudica, vai sereno, non tutti ti risponderanno qualcuno sì, qualcuno no, perché magari il messaggio finisce in spam, lo perdono, non si collegano eccetera eccetera, ma tu scrivi a quelle che ti sembrano le persone in partita interessanti e cerca di costruire quella che è un'amicizia. Ovviamente ragazzi quando facciamo networking non è che nasce tutto dall'oggi a domani, è come andare per strada e conoscere una persona, ci vuole anche il tempo di conoscerla, però se non rompiamo il ghiaccio è difficile che poi la cosa nasca, ok? Quindi anche le community dal mio punto di vista sono molto interessanti, ti permettono di conoscere persone interessanti e perché no, perché no? Terzo tip che mi sento di darti in termini di networking, migliorare il networking, è andare a tutta una serie di mastermind o di eventi che prevedono le cene. Credimi che le cene sono i momenti dove fai più networking in assoluto. E' vero, c'è l'evento, c'è il mastermind, lì ti parli. Le cene sono quei momenti dove si toglie un po' l'armatura di magari essere focalizzati in aula, parlare al mastermind, acquisire informazioni, prendere appunti eccetera eccetera e inizia a essere un clima più tranquillo, più divertente. Ecco, nelle cene puoi fare tutte le amicizie che vuoi, proprio perché magari ti senti anche meno imbarazzato, pensi di disturbare meno eccetera eccetera. Questo è un tips che vale oro dal mio punto di vista. Le più grandi conoscenze che ho fatto fino ad oggi le ho fatte a cene, pranzi, aperitivi. Ovviamente non a caso, quindi non andrei all'aperitivo lì buttato lì, ma magari al mastermind che ha la cena e lo vedi dal programma, se sono previste cene, se sono previsti pranzi eccetera eccetera. E quello è un momento fantastico, perché anche se ti siedi a cena col tuo mentor, per esempio ho fatto una cena bellissima con Rudy Mower, lì per esempio riesci a parlare anche di cose in modo più tranquillo, più slegato, più naturale, no? Meno impostato da evento e lì hai la possibilità di fare tanto networking. Io oggigiorno ho il numero di telefono di Rudy Mower, così di tutti gli altri che ho conosciuto, e credimi che proprio nell'aperitivo, nella cena, rompi effettivamente il ghiaccio. Anche perché magari se vuoi parlare a un mentore, durante l'evento i tempi sono molto stretti, magari c'è una pausa di un quarto d'ora, quindi magari sai, inizi a rompere il ghiaccio, inizi a parlarci, poi è già finito il tempo, eccetera eccetera. Anche ad esempio l'ultimo evento a Londra con Jordan Platten, dopo cena abbiamo fatto una grandissima chiacchierata, io, lui e altri altissimi di livello, e abbiamo fatto delle chiacchierate veramente interessanti sul futuro delle agency, del marketing, eccetera eccetera. Quindi cerca anche queste realtà dove hai le cene, perché le cene ti permettono di incastrarti, è anche un semplice ciao, scusa posso sedermi qui, ti dà un gancio per iniziare a parlare, oppure ciao, come hai trovato il corso, come ti è sembrato il mastermind, ma tu che cosa fai? Sono tutte situazioni, e appunto proprio perché sono a cena più tranquille, più naturali, dove hai la possibilità di entrare in contatto con tantissime persone e fare networking come faresti andando fuori al bar e iniziando a parlare con qualcuno. Però metti a calendario di fare networking, non sottovalutarlo, è vero c'è una fase di isolamento, ma quando hai iniziato a raggiungere i primi risultati, quindi hai anche quel momentum di sì, ce la faccio, sto ottenendo risultati, ti senti più forte, vai e fai networking, è importantissimo, perché nel momento di difficoltà avrai una persona con cui parlare, perché ti aprirà tantissimo la mente. Io stesso ho ricevuto dei consigli incredibili davanti a un buffet di un mastermind a Londra, per esempio, che hanno svoltato il mio business. Quindi buttati in queste situazioni, buttati in non aver paura, ma metti a tavolino anche il fatto di fare networking, è importantissimo, deve essere una priorità tanto quanto quando ti sei isolato, tanto quanto leggere, tanto quanto guardare questi video, tanto quanto studiare, eccetera, eccetera, eccetera. Deve essere una tua priorità non sacrificabile. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, se vuoi altri video a tema networking, fammi sapere, Dalle Lorenzi è tutto, ci vediamo, ciao!